Bentornati sul canale di Sebigiafcarena per un nuovo capitolo della rubrica dell'analisi degli eroi AFCDEX. Andiamo a vedere Ziz, che è un personaggio molto fascinoso, guardate quanto è bello e crasto, tra l'altro l'artwork è una delle più belle, a mio parere, in tutto il gioco. Parleremo di questo personaggio epogeo, perché ormai sono usciti diversi video di personaggi popolari, insomma, quei personaggi che era giusto analizzare fin da subito, soprattutto per i neofiti, perché chi gioca già da un po' magari li conosce meglio, però insomma, dare dei consigli sulle team comp, eccetera, ci poteva essere più utile rispetto a guardare questi personaggi, che andremo a vedere, ho già fatto Orthros, abbiamo visto anche Lorzan, oggi vediamo Ziz, per l'appunto, perché ha un altro di quei personaggi un po' misteriosi, dove escono difficilmente, soprattutto è anche difficile vedere la signatura di questi personaggi, che uscendo poco, insomma, portare le mitici non è proprio uno scherzo. Prima di partire con l'analisi, quindi, ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei video, commentate se, per esempio, lo state usando e Ziz come Atalia è un personaggio che riusciamo a farmare molto lentamente, però anche free to play, quindi, sicuramente qualcuno di voi ce l'avrà già mitico, e così via, fateci sapere, insomma, le vostre impressioni nella campagna, ecco, perché, secondo me, Ziz è veramente un personaggio molto molto forte. Allora, cominciamo subito con quella che, a mio parere, è il tratto più interessante di Ziz, e cioè la furia mentale. Allora, Ziz è un tank, non proprio tank, più che altro è una specie di support con il pugno duro, prevalentemente, cioè, per lo meno per quello che è, secondo me, l'utilizzo migliore che si può fare di questo personaggio fantastico. Allora, come vedete, già facciamo recuperare ogni 3 secondi 40 punti energia a tutti gli alleati. Poi, la cosa molto interessante, allora, intanto partiamo dal presupposto, ragazzi, che qualsiasi personaggio che dia punti energia è troppo rotto, perché è la base del gioco, ci servono i punti energia per far skillare i prima personaggi, e lui ce la fa recuperare ogni secondo, il che significa che i nostri personaggi skilleranno veramente tanto più spesso, veramente tanto. A mio parere, diventa veramente buono dal 141, quando a livello 2 riusciamo a far guadagnare ai compagni di squadra l'energia, chiaramente ridotta del 30%, però anche dopo la sua morte, però, insomma, ci permetterà di avere questo bonus sempre, in tutta la battaglia, e questo per me è fortissimo, cioè, veramente molto forte. E poi, a livello 3, insomma, arriviamo a recuperare 50 punti energia ogni 3 secondi, che è buono, 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 davvero, veramente utile. Andiamo a vedere un altro aspetto veramente interessante, il FIAR di Eziz. Allora, Eziz ogni tanto lancia un'onda d'urto, che infligge un tot di danni, colpisce tutti, ma la cosa veramente interessante è che tutti quelli che sono stati colpiti, quindi tutti, sono incapaci di lanciare le definitive, insomma, le ulti, per 3 secondi. 3 secondi, ragazzi. Ma non è finita, è qui che Eziz comincia a dare veramente il top, e che vi permetterà di fare delle combo che a breve vi spiego. Allora, a livello 2, tutti i vostri alleati beneficeranno di questa passiva, al punto che ogni volta che skilleranno, interromperanno, o comunque negheranno per 2 secondi, l'utilizzo delle abilità definitive degli nemici. Quindi, ora, in campagna è molto più difficile farlo, perché chiaramente, insomma, ci sono tutte altre dinamiche, c'è danni troppo alti degli avversari e tutto il resto. Però, e questo l'abbiamo già provato, quindi ve lo assicuro si può fare, se voi giocate un PG come Eziz contro Vritz, nel contenuto di Gilta, e magari ci affiancate dei personaggi che aumentano la fretta, o comunque, per esempio, la RG e l'Isla sono perfetti per questa cosa, perché aumentando la fretta aumentano anche la regen, e quindi siete in grado di tirare le ulti molto più spesso, e fate in manuale, e tirate ogni 2 secondi le ulti, praticamente Vritz non skillerà più, non riuscirà più a tirare le ulti, quindi voi arriverete tranquillamente alla fine del fight, senza perdere neanche un eroe. Ecco, allora, Eziz non è fra i migliori personaggi da utilizzare contro Vritz e Soren, perché prevalentemente il problema di fondo è che non fa poi così tanto danno, però comunque è una combo da provare, se siete in difficoltà magari a raggiungere la fine del fight con Vritz, fate un tentativo, perché secondo me è veramente divertente questa cosa, sfruttare questa passiva, e poi a livello 3, insomma, guadagniamo dell'altro danno che ci interessa al giusto. Mente felebile. Allora, Eziz cosa fa? Prende il nemico più distante, quindi quello più safe nella backline, e lo controlla mentalmente, quindi impedendogli di usare attacchi e tutto il resto, e forzandola a camminare verso di lui. Quando l'ha raggiunto, gli infligge il 210% del danno, e in più lo blocca lì su, nella posizione vicino all'oe, perché questo cosa lo abiliterà a fare, come vedremo con la ulti, insomma, Eziz ha delle belle meccaniche attorno a sé. Tra l'altro, insomma, a livello 3, il valore d'attacco del nemico è ridotto del 30% per 5 secondi, dopo che gli è stato arrecato un danno, quindi, questa cosa è veramente interessante, in poche parole, cosa succede? Che noi controlliamo un tizio, e tutte le volte che riceve danno, per 5 secondi avrà il danno ridotto, cioè l'attacco ridotto del 30%, questa è veramente una cosa molto interessante, molto forte. Per l'appunto, Eziz ha un debuffer, come vedete da qua, ha tutte queste meccaniche che vanno a rompere le scatole al team nemico, ed è molto forte per questo. Ma andiamo a vedere la ulti, praticamente cosa fa? Eziz tira una scaloppa in terra e fa esplodere il terreno, arrecando un danno del 180% a qualsiasi nemico delle vicinanze, nelle vicinanze, quindi, se andiamo a prendere con Mind Control la gente, riusciamo a utilizzare anche la ulti contro i loro, e l'esplosione fa bruciare una parte del terreno e arreca un danno a qualsiasi nemico che si trova su di esso per 5 secondi. Allora, 5 secondi di fiamme che infliggono un discreto danno. Ora, purtroppo non ci dà dei dettagli maggiori, ma comunque, cioè, quello che ci interessa veramente tanto è il livello 2, che, se non mi sbaglio, è tipo al 101, al 121, insomma, perdonatemi se non mi ricordo, ma comunque è veramente agli inizi, perché il livello 3 poi lo prendiamo al 161, la cosa interessante è che riusciamo a ridurre i valori di attacco dei nemici sul terreno che brucia di 40% dei loro punti. E qui è veramente, si fa interessante, perché a quel punto, insomma, una volta tirata la ulti, per quei 5 secondi che il terreno brucia, gli avversari non faranno una cippa di danno. Considerando poi che abbiamo anche la mente flebile, e quindi già stiamo riducendo il 30% del tizio mai incontrollato, riusciamo a fare veramente delle cose molto molto interessanti. Ma non è finita qui, perché abbiamo anche la signature ability. Come vedete, la signature ability va a boostare HP e difesa in maniera molto buona, abbiamo un po' di accuracy, un po' di attacco che ci interessano il giusto, ma, eccoli qua, i nemici con meno del 30% in salute rimarranno storditi per un breve periodo. E questo comincia a essere molto interessante, perché ci dà anche dei cc che prima non avevamo sui zizze, e quindi già da mitico si impone in maniera molto possente, ecco, veramente interessante. Al più 10, poi, il fuoco di Eziz dura un secondo, qui non è molto chiaro quello che fa la signature. Io sono abbastanza sicuro che si riferisca alle fiamme della ulti, e quindi a questo punto sarebbe da assumere che il tempo che brucia il terreno è aumentato di un secondo. L'ho provato a leggere anche in inglese, ma non è chiara nemmeno in inglese, purtroppo. Quindi, in questo punto, poi fatemi sapere se qualcuno di voi ha fatto dei tentativi e si è accorto che effettivamente funziona o no in questo modo. E poi, insomma, il danno viene aumentato del 15%, quindi il danno che prima prendevano, il dot della bruciatura, viene aumentato del 15%. A più 20 aumenta il danno del 20%, ma al più 30, ecco, qui la cosa si fa interessante, la durata della bruciatura del terreno aumenta del 100%, quindi, invece di bruciare per 5 secondi o per 6, se il più 10 e il più 20 si riferiscono a quelle fiamme, a quel punto andremo a 10 secondi o addirittura a 12 secondi, che, insomma, non è male per niente, considerando, insomma, che poi a quel punto il danno che cominceremo a fare sarà abbastanza importante, andrà in combo con i nemici con meno del 30% di salute che rimarranno storditi per un breve periodo, l'unica cosa, ecco, che il terreno può bruciare solo una volta. Questo limita il fatto che magari non riusciremo a fare, tipo, che ne so, 10 ulti a diritto, no, e fare le mega fiamme in terra e fare un sacco di danni anche staccati, però è pur vero che, insomma, per ricaricare la ultima magari una decina di secondi ci vogliono e a quel punto cosa succederà? Che riusciremo a mantenere sempre una zona del terreno in fiamme e quindi a infliggere danni di continuo e magari riuscire anche a stannare i nemici e ridurre di molto la salute e quindi a annullarli completamente con queste fiamme che secondo me, insomma, sono abbastanza interessanti. A proposito di Ziz, poi, cioè, cosa dobbiamo dire? Ai tempi, prima delle uscite di nuovi personaggi, insomma, Ziz faceva parte di una delle team comp più forti del gioco che utilizzava, non mi ricordo male, una sorta di seconda all-star team. Giocava Brutus e Ziz davanti e poi ne mora lai cattasi dietro e quindi c'era più un control team invece magari di giocare Shemira per i suoi danni sfruttavamo più i CC in modo da controllare meglio la team comp avversaria e distruggerla piano piano con Laika, insomma, Laika e Brutus che fanno diversi danni e Ziz magari con le fiamme. Ecco, poi abbiamo parlato dell'utilizzo con Vritz, fatemi sapere se con Soren funziona uguale, se riuscite a farlo, ho dubito di no, cioè dubito che ci riuscirete perché comunque Soren quando incanta potrebbe soltanto farvi peggiorare le cose perché a quel punto Ziz finirebbe per interrompervi le ulti e magari anche mind controllare uno, insomma, non lo vedo proprio ottimale, però con Vritz è molto utile, provatelo perché è veramente divertente la combo. Bene, possiamo concludere qui l'analisi di Ziz, io vi ringrazio per la visual, vi ricordo di scrivervi e di attivare la campanellina se non l'avete fatto avanti alla fine la prendo davvero la katana. Commentate, fatemi sapere cosa ne pensate di questo personaggio e soprattutto condividete le vostre esperienze in campagna con noi perché io questa analisi l'ho fatta sulle esperienze di amici che ne hanno trovato uno solo, quindi magari insomma, se qualcuno lo sta già portando più avanti io ho scelto di portare su Atalia con il campionato dello sfidante cioè con lo shop del campionato dello sfidante quindi magari qualcuno di voi conosce anche delle curiosità più interessanti di quelle che vi ho mostrato oggi. Quindi, vi ringrazio ancora per la visualizzazione del video, condividetelo con i vostri amici, io sono SebiG e ci vediamo per una prossima analisi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.